Ah, il bioespresso italiano, ad averlo anche a casa. Beh, puoi. Davvero? Davvero. A casa? Cosa? Cosa? A casa, ragazzi. Sul serio? Sul serio. Sì, in capsula. Ma quale capsula? L'originale. L'inimitabile. A modo mio. Oh, baby. A casa? A casa o al bar? Casa! A casa? Come al bar? Sì, la vazza. Solo con macchine e capsule originali la vazza a modo mio. Puoi bere il vero espresso italiano a casa tua. La vazza a modo mio. A casa come al bar.